Igea, clamorosa protesta di due operai arrampicati su una torre a Campopisano, chiedono un incontro urgente con l'assessore all'industria. Non si vedono prospettive per la risoluzione dei problemi. Risanare le aree ex Sardamag di Sant'Antioco. La Regione metta il Comune nelle condizioni di bandire le gare d'appalto per sveltire le procedure di risanamento. Questo è il monito del consigliere regionale, Ignazio Loci. Tenta di rapinare il superpane e finisce in manette. Un giovane di Carboni, armato di un bastone in plastica, ha cercato di mettere a segno il colpo. Messo in fuga dei clienti, è tornato a casa per poi essere arrestato dai carabinieri. Giornate europee del patrimonio 2014. Porte aperte sabato 20 settembre a Carbonia per visitare la lampisteria del Museo del Carbone ed effettuare la visita guidata nella Galleria Sotterranea. Bentornati su Canale 40. L'avvertenza Igea in primo piano. Due operai senza stipendio ormai da tempo sono saliti su una torretta dell'antincendio questa mattina a Campopisano a 35 metri di altezza. Non si vedono prospettive per la soluzione di questa avvertenza, ha spiegato uno di loro. Siamo stanchi di assistere alle solite passerelle per i politici per poi vederli sparire quando è il momento di risolvere i problemi. Sale dunque la tensione tra i lavoratori Igea a Campopisano dove i due lavoratori hanno chiesto un incontro urgente con l'assessore all'industria. In mancanza di risposte potrebbero anche esserci gesti più estremi. L'assessorato regionale all'industria si riprenda indietro i 5 milioni e mezzo di euro affidati all'Igea per le bonifiche delle aree ex Sardamag da troppo tempo ferme a causa delle note vicissitudini che riguardano appunto la controllata della regione sulle bonifiche relative a quest'area. È intervenuto il consigliere regionale Ignazio Loci. L'assessorato regionale all'industria si riprende indietro i 5 milioni e mezzo di euro affidati all'Igea per le bonifiche delle aree ex Sardamag da troppo tempo ferme a causa delle note vicissitudini che riguardano la controllata regionale e metta il Comune di Sant'Antioco nelle condizioni di bandire le gare d'appalto per sveltire le procedure di risanamento. Il consigliere regionale di Forza Italia Ignazio Loci prende posizione sul risanamento di quelle aree in cui sorgeva la zona industriale di Sant'Antioco. Non possiamo attendere i tempi della giunta regionale dell'elaborazione di un piano industriale per un'azienda ormai decotta, sottolinea Loci, e che recentemente ha peraltro rinunciato alle decine di milioni di euro affidatele per le bonifiche della miniera di San Giorgio a Iglesias. E come se non bastasse, Igea è interessata da una procedura di liquidazione e di un concordato preventivo. Insomma, non è nelle condizioni di garantire l'assolvimento dei suoi impegni, prosegue il consigliere, e non mi stupirebbe a fonda se prossimamente il commissario liquidatore Antio Cogregu decidesse di rinunciare ai 5 milioni e mezzo di euro per le aree, oggi Seamag. Si deve concludere al più presto un iter di bonifica arrivato ormai a buon punto. I piani di caratterizzazione delle aree sono completi e non resta che bandire le gare per l'affidamento dei lavori. Assegnare al comune di Sant'Antioco pieni poteri è ad oggi la strada più logica, conclude Loci. E passiamo alla cronaca, il nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Carbonia, attratto in arresto Luca Mazzoleni, 21enne residente a Carbonia perché ritenuto responsabile di tentata rapina aggravata ai danni del superpan di via Santa Caterina a Carbonia. Ieri mattina, intorno alle 8 e un quarto, il giovane si è recato al supermercato munito di un rudimentale bastone in plastica ricavato tagliando il piede di una sedia in PVC. Messo in fuga dai clienti presenti in negozio, il giovane non è riuscito nel suo intento. I militari messi in allerta dei responsabili del negozio hanno individuato l'aspirante rapinatore grazie alle immagini catturate dalle videocamere di sorveglianza. Mazzoleni è stato trovato nella sua abitazione e arrestato su disposizione del PM. Questa mattina il Tribunale di Cagliari lo ha condannato a 8 mesi di reclusione e al pagamento di un'ammenda di 130 euro con sospensione della pena. La politica regionale in apertura di questo secondo blocco del nostro telegiornale è per gli enti locali dall'Aggiunta a 35 milioni per il Fondo Unico e 5 per il supporto agli alunni disabili. Sentiamo. L'Aggiunta regionale ha approvato il disegno di legge sull'assestamento di bilancio che prevede il reintegro del Fondo Unico degli enti locali per una somma pari a 35 milioni di euro. Con questo reintegro l'Aggiunta, guidata dal Presidente Pigliarù, risponde tempestivamente e concretamente alle richieste di sostegno formulate dagli enti locali, ultimamente in particolare dalle province, dice l'assessore degli enti locali Cristiano Enriu. Sempre nell'ottica di sostenere le politiche condotte da province e comuni all'interno delle proprie dotazioni di bilancio, l'Aggiunta ha stanziato 5 milioni di euro destinate al supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni disabili. È un risultato molto importante, soprattutto perché all'inizio del nuovo anno scolastico dei 5 milioni stanziati, oggi l'80% sarà immediatamente disponibile tramite decreto in termini di anticipazioni, sottolinea l'assessore all'istruzione Claudia Filino. Questo consentirà di saltare i normali passaggi burocratici e dare tutte le garanzie alle amministrazioni rispetto alle richieste urgenti pervenute. È la prima volta che un governo regionale garantisce questo finanziamento per gli alunni disabili prima dell'inizio dell'anno scolastico. Il restante 20% dell'importo stanziato sarà saldato sulla base delle informazioni relativi al numero di alunni che fruiranno effettivamente dei servizi. Il decreto è già stato posto alla firma. Vediamo adesso insieme alcune interviste realizzate oggi da Manolo Mureddu che ha raccolto la protesta di due commercianti di Carboni raggiunti da un avviso di pagamento per alcune serate di intrattenimento organizzate in occasione di Noti Insieme. Sentiamo che cosa è successo. Alessio Ghezza, titolare del Bar Torino quest'anno, come ogni anno, avete partecipato alla manifestazione Noti Insieme avete ricevuto una multa, perché? Sì, abbiamo ricevuto una multa perché non abbiamo comunicato questa scia che è praticamente un'autorizzazione da fare al Comune per l'inizio della musica, dell'intrattenimento nonostante si sia pagato la SIAE e naturalmente il gruppo musicale quindi è una cosa in più che nessuno sapeva di questo foglio qua. Voi avete ricevuto l'ordinanza che è stata emanata a inizio luglio solo l'8 agosto? Sì, solo l'8 agosto, è protocollata il 3 luglio ma da noi ce l'hanno consegnata l'8 agosto. All'interno di questa ordinanza è citata questa autorizzazione che vi viene contestata? Sì, viene contestata questa autorizzazione ma annoteggiando a manifestazione iniziata quindi a un certo punto tutti gli altri mercoledì prima sono tutti praticamente fuori legge perché un'autorizzazione consegnata ad agosto quando è protocollata il 3 luglio è già abbondantemente... Questa è un'autorizzazione che tra l'altro negli anni scorsi non è stata mai richiesta? No, mai richiesta, gli altri anni proprio zero. Praticamente ci hanno multato perché il mercoledì sera noi abbiamo dato per scontato che fossimo già avvisati dal comune che comunque facevamo serata dovevamo avvisare anche i vigili urbani arrivando all'ordinanza noi non abbiamo pensato che il mercoledì fosse compreso in questa ordinanza abbiamo dato per scontato che era tutto a posto invece il 13 di agosto sono passati i vigili era un mercoledì sera e ci hanno detto che avrebbero poi fatto un verbale perché noi non avevamo appunto avvisato per questa serata che, ripeto, dall'inizio della stagione di luglio il comune ci chiede se facciamo un punto musicale il mercoledì sera. Tra l'altro l'ordinanza vi è arrivata solo ad agosto? L'8 agosto, per cui tutte le serate di luglio le abbiamo fatte senza problemi e quelle di agosto infatti sono state poi comprese in questa ordinanza e noi siamo andati poi... io il giorno dopo sono andata dai vigili a firmare un foglio con le tre date che restavano ancora dei mercoledì. Si intitola L'odore dello scirocco il nuovo romanzo scritto da Luca Massa giovane scrittore di Carbonia che abbiamo intervistato proprio a pochi giorni di distanza dalla presentazione ufficiale del libro. Luca, è in uscita su internet perché stiamo parlando di un ebook il tuo ultimo lavoro che si intitola L'odore dello scirocco ci vuoi un po' raccontare qual è la trama di questo libro? Sì, è un romanzo che è ambientato in un fantomatico paese dalle nostre parti dell'estremo sulcis che si chiama Mallonis il romanzo, diciamo, descrive i fenomeni inquiettanti che accadono in questo villaggio a seguito di una buffera di scirocco che sconvolgerà per alcuni giorni il paese scirocco che ha un odore particolare che fa uscire sostanzialmente fuori di testa gli animali e anche gli uomini quindi avremo alcuni accadimenti come per esempio cani più intelligenti degli stessi esseri umani che resi conto di questo si suicidano anatre che tagliano la testa che continuano a camminare nonostante questo sia fisicamente biologicamente impossibile avremmo la decapitazione della statua del Battista durante la stessa festa del 24 giugno perché è ritenuto incapace il patrono dagli stessi abitanti del paese di porre il rimedio a questa situazione drammatica non mancano quindi i personaggi di fantasia così come non mancheranno i colpi di scena beh, diciamo il colpo di scena c'è all'inizio ma non è un finto colpo di scena è un duplice omicidio che porrà fine alla foglia di questi giorni i personaggi sono come posso dire personaggi presi un po' dalla realtà tant'è vero che anche lo spirito così del romanzo è quello di fare emergere seppur in forma embrionale alcune caratteristiche del nostro territorio che vanno perdendosi mi riferisco soprattutto che so a quanto di magico c'è o forse è meglio dire c'era ma di ripeto si sta perdendo nella nostra zona dove possiamo trovare l'odore dello scirocco? il libro è edito da una casa editrice che pubblica solo ebook la regina Zabo Edizioni una casa editrice giovane fatta da giovani quindi si può trovare su internet poi faremo una presentazione a Carbonia il 26 settembre presso il vinile quindi chi magari fosse interessato a saperne di più può venire a trovarci Il Museo del Carbone aderisce alle giornate europee del patrimonio 2014 promosse dal Consiglio d'Europa per la valorizzazione del patrimonio culturale dei paesi membri quest'anno le date scelte sono il 20 e il 21 settembre sul territorio nazionale la manifestazione avrà luogo il 20 settembre secondo le indicazioni del Ministero dei beni culturali per l'occasione quindi sabato 20 settembre sarà possibile visitare gratuitamente la lampisteria del Museo del Carbone ed effettuare la visita guidata della Galleria Sotterranea al prezzo ridotto di 6 euro l'ingresso gratuito nella lampisteria sarà consentito dalle 10 alle 17 mentre la chiusura della biglietteria è prevista per le ore 18 L'amministrazione comunale di Carbonia nell'ambito del plus il servizio affidi distrettuali alla società umanitaria presentano presso il Salone Veglio Spano a Carbonia una serie di proiezioni cinematografiche sul tema dell'affidamento familiare il prossimo incontro si terrà martedì 16 settembre quindi domani dalle 21 alle 22 e 30 in occasione di queste proiezioni saranno presenti gli operatori del servizio affidi distrettuale che hanno organizzato la rassegna per ogni eventuale richiesta di informazione o contatto con questa notizia si chiude il nostro telegiornale io vi ringrazio per averci seguito fin qui vi ricordo che potete seguirci anche in diretta streaming sul nostro sito www.canale40tv.it e sulla nostra pagina di Facebook vi lascio adesso con le previsioni meteo vi do appuntamento alle prossime edizioni del TG40 arrivederci la giornata di martedì nel Sulcis sarà caratterizzata la nuvolosità scarsa il vento soffrirà da ovest sud ovest con intensità di 9 km orari possibili raffiche fino a 13 km orari temperature minime comprese tra i 16 e 21 gradi e massime comprese tra i 27 e 33 gradi qui e che 'll chi qui Grazie a tutti.